Molti bambini ed adulti assumono molte più calorie del fabbisogno giornaliero. Per educare ad un corretto stile di vita è iniziata una campagna di promozione del tragitto Vado a scuola a piedi, che coinvolge bambini, genitori, scuole, comuni, associazioni, polizia municipale ed aziende sanitarie. I dipartimenti di prevenzione sostengono il progetto Vado a scuola con gli amici camminando. La campagna Ragazzi in Gamba è una campagna promossa da due ministeri per favorire l'aumento del movimento nei bambini e nei ragazzi. La sedentarietà che caratterizza la nostra epoca è del tutto innaturale. Dal punto di vista biologico noi non siamo tarati per fare una vita così sedentaria. I ragazzi e i bambini hanno bisogno di almeno un'ora al giorno di movimento. Attualmente noi abbiamo nove bambini su dieci che non fanno sufficiente attività fisica. La maggior parte dei bambini passa più di due ore al giorno davanti alla televisione. Ormai la televisione e il computer hanno sostituito i giochi di movimento. E così questo contribuisce ad aumentare la sedentarietà nei nostri ragazzi. I dirigenti scolastici in genere si occupano di ciò che accade nella scuola. Alcuni però hanno a cuore anche ciò che avviene prima e dopo le ore scolastiche. Abbiamo creduto nel progetto Pedipus perché ci permetteva di educare gli alunni al maggior rispetto dell'ambiente e educare i genitori a diminuire il traffico attorno alla zona, al territorio della nostra scuola. È stata essenziale la collaborazione in primis dei genitori, in secondo luogo degli insegnanti, della circoscrizione e del comune attraverso il settore ecologia. Il progetto, che durerà tutto l'anno, permette a una trentina di alunni di raggiungere la scuola a piedi, di confrontarsi prima ancora delle lezioni, di scambiare qualche parola e anche di divertirsi in qualche modo perché loro sono autonomi nel movimento verso la scuola. Crediamo a tal punto che pensiamo di estenderlo negli anni prossimi ad altre classi. Dopo un mese di esperienza di Pedibus abbiamo notato che i ragazzini raggiungono l'aula e i loro insegnanti sono più reattivi, sono più svegli, più sorridenti, come se avessero iniziato le lezioni al di fuori della scuola.